Il Residence e l'Hotel Residence Civi sono strutture adiecenti situati nell'incantevole località di Tortoreto Lido, a 50 metri dal mare. Gli ampi appartamenti bilocali e trilocali del Residence sono dotati di aria condizionata e di cucina accessoriata di lavastoviglie, forno e frigo congelatore, con balconi verandati per pranzare all'aperto. Per chi preferisce la soluzione Hotel Residence, sono state studiate quattro tipologie di camere per soddisfare un'esigenza. Single, UME, Mini Family e Family. Le unità abitative di recente costruzione completamente insonorizzate sono finemente ridate e dotate di balcone, con possibilità di vista mare, angolo cottura attrezzato, tv satellitare, ascensore, aria climatizzata e materassi analergici. Tutta la struttura è stata progettata secondo la concezione di risparmio energetico e quindi nel totale rispetto dell'ambiente. Il verde e gli spazi comuni con giochi e attività ergreative per adulti e bambini rendono le due strutture adatte a tutti. Il ristorante Olivo Mare, presso il Residence, è specializzato nella buona cucina tradizionale di pesce, ma offre anche carne, pizza e una vasta scelta di insalate componibili. Tutto anche senza glutine e con la possibilità di esporto. Mare, relax e denogastronomia al Civi